Un santermente che fatica a risalire la china, l'andatura è quella mostrata dal presidente Martino nel salire le scale a Nicoletti, ma occorre dirlo. Le assenze sono tante, la squadra di Pazzini arriva a Riccione con soli 16 giocatori. Il Riccione invece approfitta del migliore dei modi delle sconfitte di nuovo a Felti Mondaino, mettendo in mostra un super tolomeo a tratti indomabile. Suo è gol partita che regalerà i tre punti ai padroni di casa, una partita che vede un Riccione più pericoloso in zona offensiva, mentre gli ospiti provano a replicare al loro modo. L'infortunio a corsa a centrale Zavattini e successivamente l'espulsione di Castiglioni non aiutano. Ma il Riccione in giornata di grazie fa valere la propria qualità tecnica già dalle prime battute, anche se la prima occasione è di marca ospite. Calcio piazzato, battuto da Marcaccio, Taki blocca senza problemi, scaturendo così l'invio con un lancio in direzione Facchini, il quale si beve Zavattini che accusa dolori muscolari scaricando addosso a Vandi. Il Riccione ci prova ancora una volta, Facchini appoggia per Gallesi, tiro di quest'ultimo bloccato senza affanni da Vandi. Tolomeo invece inizia a scaldare i piedi verso lo specchio della porta, mira da rivedere. Non a caso in seconda battuta e segue un nuovo tentativo chiamando Vandi, questa volta la presa a terra. Il numero 10 ha voglia di straffare, con un gioco di gambe deposita il pallone sull'esterno della rete, prima di trovare i gol partita. Rimessa laterale, pallone sporcato da un paio di compagni, per ultimo da Facchini e Tolomeo in acrobazia non perdona trovando i gol dei tre punti. Tutta la gioia è meritata, con dedica personale e supporters Riccionici che da inizio partita hanno applaudito le sue giocate. Non a caso i compagni ringraziano e Refreci mostra nuovamente la perla, eseguita da classe 1981. Il Riccione vorrebbe già chiudere la gara poco dopo, quando Giannetti chiama la respita a Vandi, il quale, per sventare un pallone malamente colpito, viene scaraventato dentro la rete da Facchini. Per Mario di Cesena si tratta di calcio di punizione. Come detto, Zabattini, centrale difensiva, deve lasciare il campo per problemi muscolari, al suo posto entra Madej. Il Santermente tenta di rispondere dall'angolo, Marcaccio pesca Zabattini, la cui volete termina lontana dalla porta difesa d'attacchi. Su fine di tempo, Tolomeo centra un incredibile incrocio dei pali, prima del dubbio e fischio attimi di paura, per uno scontro dove alla peggio il portiere Tacchi, che riprenderà successivamente la propria posizione in campo. La ripresa inizia con Facchini che pesca Tolomeo, primo piano meritato per lui, con una gran giocata che chiama Vandi alla respinta in corner. Poco dopo, lo scatenato e chi se no, Tolomeo viene fermato su assist di Gallesi da Vandi, dal fuorigioco fischiato da Marino. Per il Santermente si fa notte fonda, quando per qualche parola di troppo viene estratto il cartellino rosso in direzione Castiglioni, Santermente a questo punto in dieci uomini. Della punizione se ne incarica Zabattini, il pallone si alza sopra la porta difesa d'attacchi. A provare il colpo da fuori aria è anche Rossi, ma la sfera termina alta. Dalla distanza Ricci pesca Facchini, l'attaccante volontariamente riesce a servire Tolomeo, che ha il tempo di concludere, ma Vandi si fa trovare pronto. Duello a distanza che si ripete tra Facchini e Vandi, con quest'ultimo in tuffo ad evitare il colpo del KO. Le finali, ne ho entrato Bottempi, prova la mezza girata, Vandi c'è e Santermente si accende tutto d'un tratto con questo lancio a cercare Molari, sul quale Tacchi fa buona guardia per poi ripetersi su questa discesa di Gentile bloccando la sfera. Poco dopo viene fischiato un dubbio fuorigioco a Bettini, lanciato a rete. Ripice fischio finale, con Pazzini che chiede spiegazione al direttore di gara, mentre Riccione può finalmente festeggiare i tre punti e il secondo posto in classico. Grazie!